Cristina Chirichella, l'obiettivo era passare il turno, la Igor l'ha ottenuto, l'ha ottenuto anche con una bellissima vittoria per 3-0. Sì, siamo contenti, sapevamo di dover affrontare comunque una partita difficile, abbiamo subito imposto il nostro gioco e siamo entrati in campo a guerrite e si è visto alla fine i primi due set, abbiamo giocato veramente una bella palla a volo in tutti i fondamentali e abbiamo raggiunto in questo caso l'obiettivo. Non era facile assolutamente, era un derby italiano all'inizio stagione, molte atleti sono arrivate all'ultimo, quello che avete messo in mostra al di là di sprazzo, di bellissima pallavola, davvero anche un bel carattere. Sì, assolutamente, era quello che dovevamo mettere fin da subito l'atteggiamento, l'abbiamo messo, alla fine sapevamo di essere avanti nella serie e dovevamo sicuramente cercare di non farle giocare e ci siamo riusciti, abbiamo attaccato tanto sia in battuta che in monofesa. Domenica a Pinerolo sarà un'altra battaglia, è un derby e poi si comincia già a dare un occhio alla cartina geografica perché il prossimo turno si va in Norvegia. Beh, sì, diciamo che penseremo partita dopo partita, adesso abbiamo veramente poche ore per poter già iniziare ad affrontare quella che è Pinerolo e sappiamo che comunque il campionato italiano non bisogna mai abbassare la testa, anzi bisogna affrontare tutte le partite al 100% ed è quello che faremo.